Buon faccio a tutti ragazzi qui al canale lupo e ben pornati E' un bello blizzcrunk Snaggino, Snaggino Ti giuro su dio che lascio il canale di youtube porn Ok? In cui fai video gay passivi Lo lascio in descrizione Snaggino No, no, no Comunque ragazzi siamo in compagnia di Favij Ciao a tutti ragazzi, sono Favij ma non mi scambiate per Snaggino Che è di Dio? Perché oggi gli ho fatto un attacco di Favij Tos Comunque ragazzi siamo in area in compagnia di Slagti e Snaggino Signore e signori Vi lascio il loro canale in descrizione ovviamente Andateli a visitare Andateli a visitare ma al tempo stesso disiscrivetevi da Canelupo Che ormai da Mandu non serve più niente Eh ragazzi voi avete visto i video di ieri? Avete visto che avevo detto che non portavo più le promo perché mi è stato giro al cazzo Ho lanciato quei due bestemmioni Ma voi ascoltatemi Io e la Madonna e Dio siamo culo e camicia Da come letta Ci ho parlato e non se la sono presa Comunque ragazzi Facciamo una cosa Se questo video raggiunge 600 like 600 Ve lo sto dicendo davanti a Slagti 600 like E vi giuro su Gesù Cristo Che vi porto il video di mia madre contro la madre di Slagti Sul lol Ragazzi Ve lo sto dicendo eh Con la webcam eh Sul mio canale ci sarà mia madre che giocherà Sul suo canale ci sarà sua madre che giocherà Nel caso in cui vogliate che facessero duo Q Ragazzi Su TS Ma ti immagini 500 mi piace 1500 mi piace Ti immagini su TSF Dai porco di Dio Aaaaaaah Comunque vorrei dire una cosa Il video ho raggiunto 2115 dislikes Snaggino Ti ricordi per cazzo Si guarda il video di oggi Porco tu hai fatto usci le minne Snaggino Snaggino io non vorrei dire niente Ma Che cosa c'era Di cosa Ah non me lo ricordo il video no Te lo ricordo io Dovevi uscire il cazzo Ora Ora vi dico questa cosa Noi abbiamo un gruppo Facebook In cui ci sono tutti i nostri amici Il vostro coloro Dexter Steppin Capito Ho detto Chi vuole recare Dexter Steppin Ho detto Veniamo noi Veniamo noi Poi mi fa Snaggino e slatti No dai veniamo noi Ho detto vabbè Vabbè Prendiamo loro Snaggino non fare Quello Beh tanto il son bravo Son positivo Poi Snaggino dice Che non ha mai preso I chat ristretto Invece non è vero Perché ha preso Un cazzo ristretto Ah Vabbè Vabbè Quello vegano Raga Non si è poco sentito Tranquillo Ti ha inculato a sangue No io l'ho inculato a sangue Non si sentiva L'ho appena detto Ma che vordi che ha un po' Sce il sangue T'avevo fatto anestetico L'anestetico Lascialo parlare Anestesiglio Non si dice anestetico Tipo una cosa che te No L'anestetico è quello Che ti fa addormentare Eh infatti Ho fatto addormentare Culo Così non sentiva niente Ragazzi Vieni qua Snaggino Iniziamo a fare Quello che ti succederà A Games Week Vieni Bravo mate Guarda la manina matta Guarda la manina matta La vedi? Quello mi sa Vordi tanto che sta Mettendo due dita Dentro qualcosa Quella manina matta Non vorrei niente Lascia stare a noi Quello che faremo Lascia stare Lascia fare Poi se lo vedi Più felice A Games Week Di affermare Fare qua Ma tu sei Snaggino Si sono io Con dietro la luce Con dietro la luce E la musichetta Con la voce che ormai Gli si è strimentata Hashtag Puoi fare una foto su Instagram Hashtag Per un unicordio Ragazzi c'è un detto Che gira a latina Cazzo piccolo Snaggino Al lippolo Che cazzo vuol dire Il lippolo Nonino Per favore Vuol dire che Monti Snaggino dei capelli Piccoli piselli Ragazzi Ragazzi Fa ora di uno Fa VJ Ci vanno pure i predi Guarda Guarda che trick Dei tasa e no E usa sta cazzo Ti è Iredia Porco Niente da dire Se mi piace tanto Allora Io Io non so come sia possibile Catrina era ferma Slant è riuscito a fare la Q Io Io non C'è E' la prima volta che eravamo su Diana Ah ricordiamo che l'unica cosa da fare su Diana E' prendere la Q Allora non esce la barzetta del sordo del feroce No Cosa? Copiata spuduratamente da Mike Shawshanks Murray Mamma mia ma quanto sei Agab Cane Quando è entrato Flavigio in stanza? Che cagliari Che c'è 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 Non scambiate il mio telefono di G Non scambiate Per qua le cuffie Che c'è che c'è che c'è che c'è che c'è Ragazzi oggi vi do questo annuncio Siete talmente tanto belli quanto bravi Noi siamo Ascolta Noi siamo molto innovativi Ed è per questo che abbiamo deciso di creare Io Slugty e Snagino Il trio Poi ci aggiungiamo qualcuno e fammi mates Però ci doverà Esatto Guarda che script shotter Signori usa il script Ziggs sta scriptato Ragazzi Questo video si chiamerà Snagino scritta Sto alla gara Sto alla gara Sto qua Guarda 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 sto bastardo Guarda Oh l'hai visto? Caterina che dobbiamo fa? Ma te lo meriti Mi hai lasciato tre fare Poi Non è un misclickare Cioè non puoi beccare Se sono due corpi Uno enorme E come Allora vi faccio subito un esempio Papari Sì non è misclickare Che te lo copri proprio Non ce la fai Come la manterna di trash Mettiamo il pisello di Snagino Di fianco al pisello Di Snitex E subito noti la differenza Cioè se provi a cliccare sul pisello di Snagino Non ce la fai È impossibile Toccare dei pixel Te toccare dei pixel Esatto Fai il bravo Ve lo dico ragazzi Slugty mi ha proposto Un video su XNXX Che? Che sì Snagino dice Che? Che sì Ma lui conosce solo Brothers Le cose quali Ah ok ok Mica si abbassa Ai pochi Ai pochi dei video in 480 Cioè ragazzi Per Snagino 1080 o non si fa la pippa ragazzi 1080 o pippa via Cioè ragazzi Mica si scherza Raga ma io non sei un formato come un pochi Sì sì Dai Snagino Cappiamo tutti Che ti fa le pippe sui muli Ancora che parli Guarda Guarda stai vedendo Faccio la place Mi stai vedendo Vai vai Sì vai vai Come può essere così forte Mamma mia raga Ma solo Platino 3 Cioè ragazzi è stato merito suo Non è che è stato Ez Che non aveva i riflessi È stato merito suo Ma che cazzo Ma che cazzo fanno Arriven Slogger Arriven Arriva il boss Guarda guarda Questa è un trick Guarda Ma per aver avviato scudo Capito Comunque ragazzi Oggi siamo qui in compagnia di Favij Valla a tutti ragazzi Valla a tutti ragazzi Sono Favij E questo gioco è Epico Sai quello dove volevo bussare No vabbè raga Questo è ridicolo Io comunque spero che Questo video vi sia piaciuto ragazzi In compagnia di questi due mattacchioni Vi ricordo il loro canale In descrizione 600 like ragazzi Mi raccomando Per un nuovo video Con questi matti A parte che Slati deve partire Perché deve andare in mezzo a neri A fassi E buttare dentro Al culo An faccia a tutti ragazzi Lo può A 1500 devi fare un'altra cosa Il video delle mamme di Slati Le mamme A settembre Duocchio Duocchio delle notte Guardate immagini Le lasci su T.S Registrata Per partire il programma Facciamo così 1500 like Su questo video qua E poi Ne chiederò 1000 su un video Che pubblicherà a settembre Per conferma No aspetta 1500 però sono troppo vuoghi Perché li potrei fare 2500 No devono condividere il video 2500 ci saranno I video delle mamme Mia madre contro il mamma Di Slati Tutto registrato An faccia a tutti Ragazzi Bella Ciao